Ciao a tutti, sono Daniela Tessore di Music Style Atelier delle Voci e sono anche direttore artistico dell'associazione culturale Franco Tessore Associazione Culturale Feb Tune, lo stile in musica. Sono qui per parlarvi del Canta Cairo 2017, in breve vi spiegherò come potrete partecipare. Il primo step è quello di registrare uno spot e lo spot dovrà essere così. Canta Cairo 2017, dovrete dire il nome della vostra attività e poi noi ci siamo! Potrete inviarlo via whatsapp o via mail, il numero è 339-2127-537. Il secondo step potrete farlo anche da soli, ovvero dovrete registrarvi su base musicale anche con un telefonino e magari anche un testo davanti e inviarcelo. Questo verrà caricato su YouTube, i più visualizzati e i più meritevoli faranno una finale o una semifinale, dipenderà da quanti iscritti avremo, proprio a Palazzo di Città. Al Teatro Che Bello dovrebbe essere il 10 di giugno. Vi aspettiamo numerosi, grazie per l'accoglienza calorosa che ci avete dato in questi giorni, passando tra i vostri negozi. Grazie perché questa attività è rivolta a voi, è gratuita, ha sfondo benefico e aspettiamo proprio tutti coloro che hanno un'attività commerciale e non solo commerciale in sede a Cairo, anche se non siete residenti lì ma ci lavorate. Quindi vi aspetto tutti quanti al 339-21-27-537. Canta Cairo 2017, una città che canta, la mia città che canta. Canta Cairo 2017, il ristoro da Paolone, ci siamo. Canta Cairo 2017, abracadabra noi, ci siamo. Canta Cairo 2017, bar Vulcano, ciao. Canta Cairo 2017, magia dell'orto, ci siamo. Canta Cairo 2017, pasticceria Cenci, ci siamo. Canta Cairo 2017, ci sono anch'io, Antonella, tabaccheria parolosa. Canta Cairo 2017, Cleopatra, ci siamo. Canta Cairo 2017, Zunina e Kai, ci siamo.